Altro che stimolo dei tre punti per la vittoria, Matera e Chieti all'insegna del non gioco. Passi per gli abruzzesi consapevoli dei loro limiti offensivi con Aureli unica punta peraltro senza alcuna efficacia. Ma dal Matera al suo esordio sul campo amico dopo la lunga scolifica ci si attendeva a un prodotto migliore. Partito benino, si è poi gradualmente sempre più smarrito e messo il gioco sul piano individuale non è venuto più a capo. Chieti invece determinato, essenziale e anche cinico per ottenere il pareggio. Dopo sette minuti la prima azione di rilievo, Lo Sacco irrompe in aree e salva il portiere. Altri tentativi con De Rosa, il primo tiro è parato, il secondo va fuori. Grosso pericolo per il Matera quando Picci va vicinissimo all'autorete ed è il palo a salvare Bruno. Comincia a perdere colpi la squadra bianco-azzurra, prime contestazioni dagli spalti e niente di particolare fino all'intervallo. Ripresa, gioco sempre più scadente, il Chieti si fa più animoso, una rovesciata di Tatti e Alidoro manda la palla in angolo. Poi finalmente una bella conclusione con Bressi, gioco sempre più frammentario, Matera vittima del nervosismo e rende sempre meno. Una sola grossa opportunità con una rovesciata di Mucciarelli, poi solo Fischi e il Chieti esulta. Affidiamo ora il commento della partita a Franco Mancini, portiere del Foggia, oggi in vacanza nella sua città. Certamente non è stata una partita brillante come speravo e molta gente che è mutato allo stadio sperava. Sul comportamento del pubblico che lei che dice? Ma io lo giustifico a una parte, però dall'altra dico che è chiaro che si deve incitare la squadra per tutti i 90 minuti, però a un certo punto se al tifoso non è piaciuta la partita può criticare il 91esimo. Cosa è mancato al Matera? Ma certamente molta lucidità, io non ho visto, è chiaro che ci sono dei giocatori che sono arrivati da poco, quindi bisogna lavorare ancora. Due parole sul Chieti per concludere? Ma io ho visto una buona squadra, però è certo che qua è venuto solo per strappare il pareggio e ci è riuscito.